Buonasera a tutti, le informazioni relative ai dati di oggi, anzitutto una informazione che certamente tutti voi conoscete, il capo dipartimento ha fatto il suo test, fortunatamente il tampone che ha eseguito ieri sera il risultato negativo, quindi ci auguriamo che presto possa riprendere il comando del Dipartimento e rientri da questo periodo di malattia. I dati, naturalmente con il collega Luigi D'Angelo abbiamo il dottor Ranieri Guerra, Assistant Director General dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I dati di oggi ci dicono che abbiamo 999 guariti, che porta il totale dei guariti a 10.361. Il bilancio è di 4.492, l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale dei positivi è 62.013. 33.648 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 3.612 sono in terapia intensiva. Abbiamo e registriamo purtroppo 662 nuovi deceduti. Alcune informazioni relative al conto corrente destinato al Dipartimento della Protezione Civile. il saldo del conto corrente ammonta a 52.161.000 euro. È un'informazione relativa all'operazione e invio di medici, di specialisti, nelle zone più colpite del nostro Paese. È in partenza fra mezz'ora dall'aeroporto di pratica di mare un aereo con il primo contingente di medici destinati a Bergamo, Brescia e Piacenza. Questo è il primo contingente di medici che abbiamo, come sapete, reclutato. Con questo appello che è stato fatto in tutto il Paese e che ci ha dato una adesione piuttosto importante, contiamo di dare continuità all'invio di medici nei giorni a venire, mentre da oggi sarà aperto un analogo appello per il reclutamento di infermieri, infermieri per il Covid, che sarà online a partire dalle ore 20 di questa sera e l'indirizzo è infermieri per covid.protezionecivile.it. Quindi nei prossimi giorni auspichiamo di poter selezionare anche un numero importante di infermieri che in supporto ai medici che sono in partenza e che partiranno possano dare un contributo importante a tutti i colleghi che vivono da molte settimane lo stress e il carico di lavoro che tutti voi ben conoscete. Luigi D'Angelo per i dati delle operazioni del Dipartimento. Buonasera a tutti. Continuano le attività operative di coordinamento del Sistema Nazionale di Protezione Civile a supporto del Sistema Sanitario, a supporto per l'assistenza della popolazione che vive questa situazione. Consuetudialmente ogni mattina abbiamo la riunione del Comitato Operativo nel quale definiamo insieme la strategia con tutte le Regioni e chiaramente da diversi giorni oramai la facciamo in modalità di videoconferenza per ovvie ragioni. In particolare le attività che stiamo portando avanti riguardano da un lato lo svuotamento delle navi da crociera che sono arrivate per fine crociera sia ai porti di Savona che al porto di Civitavecchia. Questo lo facciamo insieme alle compagnie, agli armatori, alle autorità portuali, Capitanere di Porto e all'USMAF per il rientro rapido dei passeggeri e dell'equipaggio presso le loro paesi di destinazione. Continua ancora un'attività molto importante che è quella del trasferimento dei pazienti in terapia intensiva verso altre strutture, in particolare pazienti che si trovano negli ospedali della Regione Lombardia che vanno verso altre strutture, italiane e non. Oggi abbiamo effettuato il trasferimento attraverso la CROSS, la centrale remota operativa per le emergenze sanitarie di due pazienti, Covid verso Dresda, quindi un contributo ancora importante che la Germania continua a darci. E cinque pazienti Covid sono in queste ore in approntamento per il trasferimento ancora in Germania con un vettore che i tedeschi hanno fatto atterrare oggi in Italia. Quindi la Germania conferma la disponibilità a ricevere paziente Covid per noi è molto importante e con oggi ha dato anche la disponibilità di un proprio vettore per recuperare questi pazienti. Grazie all'Enac abbiamo potuto anche aumentare il contingente di vettori che oggi sono autorizzati al trasporto di pazienti in terapia intensiva perché abbiamo un'autorizzazione ad agire in situazioni di emergenza proprio con delle barelle in biocontenimento e con altri mezzi sia privati che pubblici che si aggiungono al contingente degli elicotteri e dei mezzi ad alla frissa che operano questa attività di trasferimento. Inoltre la Germania ha anche dato la disponibilità ad un supporto con un team sanitario che sarà inviato nei prossimi giorni in Campania e quindi abbiamo un ulteriore supporto dall'estero oltre a quello già garantito dai russi e dagli americani con l'ospedale da campo che già opera in Lombardia. Abbiamo chiesto al dottore Niri Guerra di condividere con noi alcuni temi che sono temi di quotidiano interesse e di intervento nel nostro Paese condividere con noi le strategie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in particolare per ciò che riguarda i temi dell'isolamento domiciliare le questioni dei tamponi come quando eseguire i tamponi e in tema di raccomandazioni alla popolazione, all'opinione pubblica rispetto alle direttive e agli indirizzi che il sistema sanitario dà per contenere la diffusione dell'epidemia. Berbanieri. Sì, grazie, grazie, buonasera. La tematica credo che sia abbastanza costante. È fondamentale continuare con una politica di isolamento domiciliare per quanto possibile dipendendo ovviamente dalla condizione clinica delle persone che risultano positive al test. Credo che l'isolamento domiciliare per il pauce sintomatico e l'asintomatico siano fondamentali anche per diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere che devono essere riservate alla casistica più grave. Questo non vuol dire ovviamente chiudere a chiave delle persone dimenticandosi che hanno esigenze, hanno problematiche, hanno bisogno di un supporto. Il supporto va ovviamente garantito con le strategie e le attività dell'assistenza domiciliare integrata in qualche misura che il Paese ha a disposizione. Questo significa dare assistenza psicologica, dare un monitoraggio continuo dei parametri vitali in modo tale che al primo segno di aggravamento possa essere organizzato un riferimento ospedaliero. Credo che il territorio vada valorizzato al massimo e in questa maniera debba essere integrato fortemente nelle procedure di isolamento e di monitoraggio del livello di severità della patologia. Il secondo punto riguarda sempre e costantemente i tamponi, quindi la componente diagnostica. In questo momento sapete bene che l'OMS sta prequalificando circa 200 test rapidi che dovrebbero essere in qualche modo messi a disposizione degli stati prima che il regolatorio possa procedere a quella che è un'attività di routine, di registrazione. La prequalifica significa che il dossier che viene preparato e l'evidenza di funzionamento vengono valutati in maniera oggettiva e viene dato un risultato a disposizione degli stati che possano utilizzare questo tipo di tecnologia. Al momento tuttavia ha tecnologia costante, ha tecnologia che è quella attuale. Sapete bene che il tampone viene tuttora raccomandato per i casi, i casi sospetti e i contatti dei casi sospetti. Credo che sul contatto debba essere rafforzato al massimo la procedura diagnostica in modo tale da interrompere la catena epidemica il più rapidamente possibile. Un secondo punto a cui teniamo moltissimo soprattutto vista la particolare condizione italiana è la protezione a favore del personale sanitario. I livelli di contagio tra il personale sanitario sono elevati questo sta a significare che il personale si è esposto in prima persona nessuno si è tirato indietro anzi il contrario anche a rischio anche a rischio della propria salute. Queste persone devono essere tutelate non soltanto con dispositivi non soltanto con mascherine ad hoc come viene dalle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico ma deve essere anche garantita loro una capacità diagnostica costante in modo tale che possano sapere se sono positivi quando viranno positivi possa essere iniziata una terapia nel momento in cui le terapie verranno rese disponibili al di là dei trial clinici che sono in corso c'è un'evidenza che quanto più precoce l'inizio di queste terapie è tanto più vantaggioso e il risultato clinico e soprattutto non vengano esporsi alla possibilità di contagiare i loro stessi pazienti credo che questo sia un altro elemento importante per evitare il fatto che le strutture ospedaliere diventino sedi di amplificazione dell'epidemia stessa. Il messaggio è comunque che le misure sembrano avere effetto misuriamo oggi quello che è accaduto 14-15 giorni fa quindi c'è una certa difficoltà nella ricostruzione temporale degli eventi che hanno portato a questa situazione odierna e così via credo che sia importante non abbassare la guardia in un momento che è assolutamente critico perché stiamo assistendo al rallentamento della curva della velocità di incremento della curva stiamo assistendo molto probabilmente nei prossimi giorni ad una diminuzione effettiva e sostenuta della casistica soprattutto mi auguro e spero della casistica grave sapete anche che la mortalità segue di qualche giorno la diminuzione dei casi diagnosticati quindi questi sono tutti elementi che il governo deve tenere in debito conto per rafforzare il messaggio alla popolazione e soprattutto per garantire quel tipo di supporto che in un momento in cui la popolazione sicuramente sarà stanca di subire misure di contenimento di questo genere ha bisogno di qualche cosa di più ha bisogno di qualche cosa che rinforzi il messaggio ma anche garantisca dei servizi a livello domiciliare che probabilmente bisogna cercare di ipotizzare di programmare di garantire credo che in questo senso anche la disponibilità dell'ordine dei psicologi che è stata fornita alla protezione civile al sistema sanitario in generale sia estremamente importante perché un tipo di assistenza anche a distanza di questa natura da parte di professionisti che sanno perfettamente che cosa significhi il burn out anche per gli operatori sanitari sia cruciale sia un servizio fondamentale grazie Giuliano Bormioli agenzia nova io volevo chiedere dopo quattro giorni oggi per la prima volta si riscontra una nuova crescita dei casi positivi su base quotidiana quasi mille in più di ieri volevo chiedere se questo dato preoccupa anche in relazione ai dati della Lombardia che oggi parlavano appunto di un incremento molto consistente se è un rimbalzo fisiologico se è un trend in calo che si è interrotto o se state cercando di dare una spiegazione a questa cosa e poi approfittando della presenza dell'OMS vorrei fare un'altra domanda molto rapida i dati che vi arrivano dalla Cina sono affidabili si può parlare di una situazione in via di risoluzione in quel paese o c'è un po' di incertezza lo chiedo anche perché paragonare la situazione in quel territorio dove l'epidemia è scoppiata può essere utile anche per fare un raffronto col nostro paese grazie 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 il dottor Guerra aveva in qualche modo già anticipato una risposta a questa domanda quando dice che la cosa importante è che ci sia un rallentamento della velocità di incremento della curva sappiamo tutti che non possiamo aspettarci un'improvvisa diminuzione non è un'epidemia che nell'arco di 48 ore trova risoluzione dobbiamo osservare nei prossimi giorni sicuramente gli effetti delle decisioni che sono state prese il distanziamento sociale tutte le questioni che tutti ben conosciamo probabilmente stiamo già analizzando ovviamente la ragione di questo piccolo incremento rispetto al trend dei tre giorni precedenti quello che potrebbe essere successo e ne stavamo già discutendo con alcuni colleghi delle regioni del nord è che potrebbero esserci ci potrebbe essere stato un accumulo di risultati di tamponi che sono stati fatti nei giorni precedenti che sono stati emessi oggi però è un'ipotesi la valideremo ovviamente nei giorni a venire in tutti i casi dobbiamo ovviamente avere la necessaria pazienza perché ripeto questo tipo di epidemie non ha una risoluzione magica e c'è una curva che ha un trend la cosa importante è la velocità di incremento della curva che apparentemente sembra rallentare Ranieri per l'altra domanda sì grazie il discorso sulla Cina è un discorso abbastanza complesso e molto articolato avete visto che la casistica indigena in Cina è praticamente ferma non ci sono stati nuovi casi registrati se non quelli di importazione o di ritorno se si può dire come si può dire l'effetto collaterale dell'epidemia in Cina è stato l'incremento massiccio dei sistemi di sorveglianza questi portano a ritenere i dati molto attendibili perché di fatto il sistema di sorveglianza è stato elevato di varie funzioni in modo tale che sappiamo esattamente da parte della Cina con estreme trasparenza per quanto riguarda la reportistica che ci forniscono che cosa accade a livello direi più che quotidiano perché abbiamo contatti praticamente continuativi il secondo punto per quanto riguarda la Cina è che avete visto la rapidità di decremento della curva è una funzione della quantità del volume di isolamento e del rafforzamento dell'isolamento sociale che è stato prodotto anche questo è abbastanza ovvio nel momento in cui esiste una capacità di coesione sociale di quel tipo lì la capacità di coesione sociale nel nostro paese è leggermente diversa ma io continuo a dire che rimango piacevolmente stupito e sorpreso dall'accettazione da parte della popolazione di queste misure significa che la popolazione ha capito molto bene di che cosa stiamo parlando ha una percezione del rischio che è chiara ed è esplicita ripeto è in sofferenza e proprio per il fatto che è in sofferenza credo che sia necessario prevedere tipi di mitigazione di questa sofferenza continua che nel lungo andare potrebbe dare anche delle diserzioni chiamiamole così e scusatemi l'espressione salve Veronica Di Benedetto di The Post Internazionale questa mattina abbiamo pubblicato su tpi.it una nota riservata dell'Istituto Superiore di Sanità che già mi dispiace che non c'è nessuno dell'Istituto Superiore di Sanità oggi però potrete saprete rispondermi già il 2 marzo scorso l'Istituto Superiore di Sanità intimava una chiusura isolamento dei due comuni della Bergamasca Alzano Lombardo e Nembro quindi vi chiedo il comitato scientifico aveva preso in considerazione questa chiusura di due dei comuni che sono diventati poi effettivamente il focolaio veramente più incontrollato del momento quello di Bergamo e se perché non l'avete presa in considerazione perché non è stato effettivamente non sono stati effettivamente chiusi questi due comuni Alzano Lombardo e Nembro grazie l'evoluzione di questa epidemia voi sapete è stata un'evoluzione decisamente importante improvvisa massiccia nelle zone del nord soprattutto in Lombardia ci siamo sin dall'inizio attivati si è attivato l'intero sistema il comitato tecnico scientifico sono state fatte delle valutazioni sono state fatte delle valutazioni di approccio al problema molto molto precise decisamente accurate abbiamo dato delle indicazioni le indicazioni sono state prese in considerazione fino poi ad arrivare a quell'indicazione globale che voi conoscete che non è stata una facile indicazione poter arrivare a mettere in quarantena l'intero paese partendo dall'isolamento di 11 comuni che erano gli 11 comuni iniziali più il comune di Vaux è stato un passaggio e un salto di qualità decisamente importante quindi abbiamo valutato con molta sofferenza cercando di comprendere quali fossero le misure più opportune e più idonee da mettere in atto non so a quale documento riservato lei si riferisce ma l'istituto superiore ha partecipato a tutte le azioni a tutti gli incontri del comitato tecnico scientifico quindi abbiamo elaborato insieme le strategie si tratta di due note tecniche una del 2 marzo e una del 5 marzo era solo per capire su che base è stata fatta la scelta visto poi il disastro avvenuto a Bergamo insomma è un po' preoccupante vedere come già il 2 marzo si intimava un isolamento una chiusura quasi totale di quei due comuni grazie buonasera Giorgia Sotaro a DN Kronos allora l'OMS ha lanciato l'iniziativa Solidarity per sperimentare i quattro farmaci insomma i quattro documenti risultano più promettenti per la cura del coronavirus è un'analoga iniziativa anche la Francia di Scoveri di questi diciamo di questa sperimentazione fanno parte diversi paesi d'Europa e del mondo ma manca l'Italia volevo capire come mai e se c'è la volontà di entrare insomma a far parte di questo gruppo per la sperimentazione io le posso rispondere da parte OMS non da parte Italia quindi da parte OMS l'invito a entrare nel trial allargato chiamiamolo così è un invito continuo so che ci sono stati dei contatti piuttosto intensi tra la nostra divisione ricerca a Ginevra e il regolatorio italiano l'AIFA in modo tale da garantire la transizione sulla piattaforma OMS dei trial che vengono intraprese in Italia credo che ci fossero dei problemi di aggiornamento dell'impostazione nel senso che l'AIFA ha proposto una modernizzazione dell'impostazione stessa più di questo non le so dire però perché non è assolutamente di nostra competenza entrare nelle decisioni di governo l'invito ripeto è costante ed è attuale è applicabile davanti penso proprio di sì perché cosa vuole la conduzione di trial in questo momento è urgente e deve avvalersi della più ampia piattaforma possibile quindi è chiaro che avendo numeri maggiori in questa maniera in maniera tra l'altro concertata perché stiamo parlando di una adesione ad un modello regolatorio preciso ad un modello di conduzione di trial preciso i dati che possiamo avere saranno sicuramente molto più rapidi e molto più robusti buonasera scusate no chiedevo una questione più pratica legata ai termoscanner si era detto che presto sarebbero stati attivati nelle stazioni in altri posti insomma questo e insieme con le pulizie generali delle strade spesse volte dall'estero si vedono grandi operai grandi attività che puliscono le strade ecco in questo senso chiaramente sono e occupa se ne devono occupare gli enti locali però ecco se c'era stata un'indicazione da parte vostra per la questa operazione molto di facciata sembra però anche un po' fa anche bene grazie scusate grazie la ringrazio per la domanda sui termoscanner peraltro mi dà l'opportunità di dare un dato che prima non ho dato e cioè la presenza del volontariato che oggi ha raggiunto gli oltre 11.200 unità sul territorio i volontari fanno tante cose assistenza alla popolazione che ha difficoltà che si trova in quarantena assistenza anche alla popolazione nelle zone più remote del nostro paese nelle zone più interne e quindi hanno difficoltà ad intervenire e anche il controllo della temperatura attraverso termoscanner o termometri laser digitali la misura è stata da sempre attuata in questo modo anche d'intesa e con chiaramente il raccordo col Ministero della Salute e cioè il controllo della temperatura a tutti i voli in arrivo e poi abbiamo adottato un exit screening su richiesta dei paesi esteri per i voli extra Schengen quindi il controllo della temperatura è sempre avvenuto negli aeroporti nei porti con queste modalità non si è mai immaginato di un controllo della temperatura nelle stazioni o in altro perché lì entriamo anche nel campo del trasporto pubblico locale quindi non ci sarebbe motivo per farlo quando uno scende da un treno piuttosto che e non farlo quando uno scende da un autobus o da un altro mezzo quindi si è sempre ritenuta questa misura sempre nel principio di precauzione di flessibilità però oltremodo onerosa rispetto a quello che era poi l'effettivo riscontro quindi pertanto rimane il controllo della temperatura negli aeroporti e nei porti ecco una cosa soltanto sul discorso invece della pulizia delle strade aspetto questo si prego non mi tagliano la testa sono Navarra di Ascanius anche col dottore scusate no no non deve farsi tagliare la testa ci mancherebbe no il tema il tema della pulizia è un tema che stiamo affrontando e valutando con molta attenzione anche per dare quella giusto importante equilibrio tra potenziale beneficio di un intervento e potenziale inquinamento legato a quell'intervento quindi stiamo valutando le modalità più idonee e più adeguate per operazioni eventualmente massicce se si rendessero necessarie in tutti i casi possiamo sicuramente garantirvi che le opere di bonifica sono curate con particolare attenzione tutto ciò che è potenzialmente toccato dall'inquinamento di questo virus è curato con molta attenzione e bonificato ovunque in qualsiasi in qualsiasi contesto Paola Motta SkyTG24 buonasera dall'inizio di questa settimana e a seguito del decreto di domenica scorsa secondo il presidente di Confindustria circa il 70% delle aziende italiane ha chiuso o ha completato la chiusura ieri tutte queste persone questi lavoratori si vanno a sommare alle persone già a casa dai primi giorni di marzo e in questi ultimi giorni registriamo cito il dottor Guerra che parlava appunto di un rallentamento della velocità del contagio quindi vi chiedo avete pensato a come gestire la comunicazione nei prossimi giorni la comunicazione nei prossimi giorni per evitare che si allenti il comportamento rigoroso e rispettoso di stare a casa vede il tema della comunicazione in questa emergenza è sicuramente un tema di priorità assoluta il dottor Guerra prima ha accennato allo stress allo stress che la popolazione allo stress che il burnout che migliaia di operatori dell'intervento di emergenza sanitari cui vanno incontro migliaia degli operatori per non parlare dello stress di quanti vivono nello proprio domicilio costretti a questa forma di isolamento abbiamo ovviamente preso in considerazione tutti questi che sono rischi reali non potenziali sappiamo che ci saranno queste situazioni di rischio e stiamo cercando di affrontarle con tutti gli strumenti possibili tutto il sistema della psicologia degli psicologi del territorio delle associazioni di volontariato si stanno attivando per darci una mano e in parallelo ovviamente stiamo studiando con tutti gli uffici di comunicazione del Ministero della Salute del Dipartimento degli altri di Casteri quale migliore formula di comunicazione per far per far accettare questo ulteriore questi questi sacrifici questo probabilmente prolungamento di sacrifici perché fin tanto che non vedremo questa maledetta curva scendere drasticamente dobbiamo imporci il sacrificio di queste scelte dure quindi voi ci dovete aiutare in questo senso ci dovete aiutare perché siete voi i nostri mediatori nei confronti dell'opinione pubblica aiutateci a non diffondere fake news aiutateci a lottare contro questa invasione di social media che non sempre ci aiutano nella comunicazione ma che molto spesso inseriscono tematiche stressanti quasi terroristiche aiutateci a selezionare le persone con i quali voi vi riferite perché troppi si improvvisano scienziati del virus esperti matematici epidemiologi quindi aiutateci in questo perché voi siete per noi fondamentali buonasera angelo zaccone teodosi per chi forbizza articolo 21 e il riformista due domande lei auspica e invita anche noi giornalisti gli operatori della comunicazione a essere precisi e accurati ma noi abbiamo anche necessità di avere evidentemente delle fonti che siano a loro volta validate istituzionalmente quindi una domanda molto precisa la querelle mascherine sì mascherine no ad oggi il cittadino che va sul sito del ministero della salute riceve la seguente informazione che la mascherina non è necessaria fatta salva l'ipotesi che il cittadino percepisca dei sintomi che potrebbero far pensare un eventuale contagio o che egli abbia contatto con persone contagiate questa indicazione evidentemente è contraddetta anche dal comportamento di buona parte dei parlamentari che ancora oggi o ieri nel dibattito due terzi dei parlamentari italiani usano la mascherina e c'è notizia che il consiglio dei ministri si riunisca con i ministri che gustano la mascherina quindi io credo che il cittadino abbia diritto ad avere un'informazione netta e univoca seconda domanda è possibile acquistire dall'istituto superiore di sanità dei dati specifici sulla quantità dei decessi di cittadini stranieri è un'informazione che riteniamo sia utile credo anche allo stesso sistema per comprendere queste notizie fake news ci aiuti lei a capire aiutateci voi a capire come quella della comunità cinese che avrebbe adottato autocraticamente autonomamente dei provvedimenti di auto isolamento che fa sì sembrerebbe che sul numero di deceduti non ce ne sia nessuno di nazionalità straniera è un'informazione importante e poi rifaccio una domanda che era stata posta qualche giorno fa da una collega che non ha trovato risposta io credo che anche l'istituto e il ministero debba sapere e debba comunicare ai cittadini quanti sono i deceduti in ospedale e quanti sono deceduti nel proprio domicilio grazie mi auguro che lei consideri questa comunicazione come una comunicazione di fonte credibile accertata che non lo mette in dubbio perché se lei mettesse in dubbio il fatto che noi diamo delle comunicazioni non credibili sarebbe assai grave sul tema delle mascherine le posso garantire e assicurare poi chiedo al dottor Guerra di aiutarci con l'interpretazione dell'organizzazione mondiale della sanità sul tema delle mascherine il Ministero della Salute ha diffuso numerose circolari esplicative anche qui vi chiediamo un aiuto perché troppo spesso noi vediamo nelle immagini che voi ci proiettate un ciclista o un podista andare in giro con una FFP3 una mascherina FFP3 deve essere destinata agli operatori sanitari non ci si rende conto e qui ci dovete aiutare voi nella comunicazione che indossare una FFP3 non è sintomo di sicurezza non ti dà sicurezza assoluta la mascherina di quel tipo è una mascherina particolare bisogna saperla usare oltretutto se tu quella mascherina te la indossi per due settimane probabilmente non hai capito il rischio che corri perché quella mascherina ha un tempo di scadenza che è ben preciso ecco vede queste informazioni noi cerchiamo di darle le continuiamo a dare e quindi mi ritorno alla domanda precedente sulla comunicazione voi ci dovete aiutare perché ci dovete aiutare a spiegare appunto che se vai in bicicletta non deve avere la FFP3 che è l'organizzazione mondiale della sanità a cui darò adesso la parola ci dà delle indicazioni diciamo assai precise su chi deve indossarla quando la deve indossare chi non la deve indossare eccetera sui dati dell'istituto superiore bisogna tenere conto del fatto che non si può giocare a fare i furbi questa è una situazione in cui tutti quanti dobbiamo essere coesi dobbiamo seguire le regole del gioco se qualcuno cerca di fare il furbo non è che crea beneficio a se stesso crea danno a tutta la comunità quindi penso che sia indispensabile questo tipo di disciplina e devo dire la verità io ho riscontrato ho riscontrato nei compatrioti nei miei compatrioti venendo da da oltralpe un livello di di disciplina di rispetto profondissimi quindi credo che da questo punto di vista se proteggiamo l'opinione pubblica da certo tipo di disinformazione che poi risponde a interessi che neanche voglio esplorare ma voi ne sapete sicuramente più di me se riusciamo a proteggere l'opinione pubblica garantendo un flusso di informazione corretto e riferendo per ogni dettaglio a quanto i siti istituzionali riportano facciamo un ottimo servizio perché ripeto i siti istituzionali in questo momento si sono disciplinati a loro volta per garantire la massima trasparenza e un aggiornamento continuo e costante di tutto quello che è il flusso informativo globale che viene generato e che viene utilizzato quindi direi raccomandazioni basate sui fatti sui fatti e su quello che può accadere o può non accadere a seconda di quanto di quanto vincolante sia l'autodisciplina che ci imponiamo voglio aggiungere mi scusi perché ho dimenticato una piccola aggiunta all'argomento delle mascherine voi sapete quanto difficile è stato e continua ad essere il recupero e la dotazione da destinare a chi ha necessità assoluta di questi strumenti di protezione cioè coloro che vivono il territorio vivono l'ospedale vivono il pronto soccorso i medici di famiglia eccetera tornando all'esempio che facevo prima del cattivo uso di alcune dotazioni che sono in questo momento una merce preziosa quel cattivo uso va a detrimento di chi invece ne ha veramente bisogno quindi è un invito veramente accorato a non sprecare queste in questo momento quando saremo nel momento dell'eccesso di produzione potremmo anche far finta che non esiste il problema in questo momento abbiamo il dovere il dovere etico morale ditelo come volete di salvaguardare di rispettare di risparmiare e di destinare soprattutto a quella categoria ad altro rischio che è la categoria che affronta tutti i giorni il problema una domanda a entrambi una in particolare per protezione civile il professore Nino Cattabellotta presidente della formazione Gimbe dice non soltanto lui sostiene che l'Italia paga il prezzo delle lacune e dei tagli fatti nel sistema sanitario nazionale in queste ore tra l'altro il sud in particolare dove sappiamo quali sono le lacune del sud c'è un grande grido di allarme soprattutto nella Locride dove chiedono tamponi non ci sono tamponi per nessuno a quanto pare questo è quello che ci sta arrivando a noi giornalisti abbiamo anche attivato i colleghi delle sedi regionali e è vero penso che anche voi ve ne state rendendo conto adesso perché state cercando materiale dappertutto compresi i tamponi 1 seconda domanda in Piemonte non sono arrivati i dati dei decessi 449 erano ieri 449 sono oggi girano dei tweet sono 50 sono 16 riusciamo a capire cosa è successo grazie guardi mi consenta di non rispondere alla sua domanda nel senso che non voglio rispondere a una domanda che fa una provocazione che a noi non serve in questo momento se a me non serve a me protettore civile dire adesso paghiamo il prezzo di un passato mal gestito noi allora la regalo la regalo ah bene allora finisco finisco la risposta la mia risposta no 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 finisco la mia risposta credevo che l'avesse i dati dei dati non lo so forse se ci sono dei dati non so esattamente perché ho tutti i dati aggregati però finisco la mia risposta per dirle sarebbe troppo semplice andare a fare le valutazioni del passato oggi abbiamo il dovere di guardare la realtà così com'è e di affrontare questa realtà con gli strumenti che abbiamo con gli strumenti straordinari che il paese intero sta mettendo a disposizione lo sappiamo tutti che ci sono dei disequilibri tra il nord il centro e il sud bene una volta che ce lo siamo detti dobbiamo agire e mettere in atto tutte quelle azioni poi fra cinque anni quando potremo raccontarci la storia di questa emergenza andremo anche a fare l'analisi del passato sicuramente questa sarà a mio parere come normalmente avviene nelle grandi emergenze un'occasione un'importante occasione di crescita spero che sapremo saremo in grado di governarla in questo senso positivo ma visto che la domanda era rivolta a Rani Riguera ripasso il microfono premetto che non è abitudine dell'agenzia commentare su quelle che sono le politiche sanitarie di singoli paesi però mi permetta di dirle una cosa questo è un paese che ha avuto ha avuto elogi da parte di tutti per la qualità del sistema e la qualità del servizio che è stato offerto negli ultimi dieci anni almeno dal momento in cui si sono fatte queste classifiche di benchmark internazionale su chi funziona meglio e chi più garantisce qualità di servizio allora il discorso è estremamente complesso e non valuta esclusivamente il taglio lineare di risorse economico-finanziarie valuta anche la qualità degli investimenti e la la qualità del denaro e di come viene investito per garantire erogazione di cure e di servizi completi non soltanto alla persona ma anche di sanità pubblica e di gestione di quella che è la salute collettiva attraverso meccanismi di prevenzione e promozione della salute rendetevi conto che questo è un paese che è riuscito a garantire attività terapeutiche anche con farmaci innovativi di costo estremamente elevato senza andare a pescare nelle tasche dei cittadini cosa che altri paesi non sono riusciti a fare non credo che sia di grande consolazione dire gli altri stanno peggio però è vero che gli altri stanno peggio ed è vero anche che sono stati peggio per quanto riguarda noi questo glielo dico da italiano e non da funzionario di un'agenzia internazionale per quanto riguarda noi l'unica cosa che posso dire è che giova la preparazione giova la la costruzione di un piano di contingenza determinato da un'eventualità come questa di attacco acuto contro la salute pubblica da parte di un agente patogeno sconosciuto precedentemente questa probabilmente è la lezione principale che dobbiamo derivare da questa situazione ma non possiamo dire che il sistema non sia stato capace di rispondere perché quello che accade altrove con i 7 10 15 giorni di ritardo rispetto al colpo iniziale che ha subito l'Italia mi sembra che stia a significare quanto il paese abbia reagito bene quanto sia stato in grado di muoversi muoversi anche rapidamente che cosa sarebbe successo se fossero rimasti i livelli di finanziamento costanti come nel passato ma probabilmente ci sarebbe stata un'accusa un'accusa da parte dell'opinione pubblica di non investire bene di sprecare di spreperare denaro pubblico in attività che non che non avevano senso a me sinceramente preoccupa molto di più una cosa l'invecchiamento del personale e il mancato ricambio su una quota parte del personale che è critica questo però era già un argomento in discussione in fase pre-epidemica perché vi ricorderete che già con il Ministro Lorenzini il dibattito era entrato in questa in questa previsione e in questa programmazione è chiaro che i meccanismi sì ma i meccanismi di Stato i meccanismi di amministrazione pubblica di un sistema nazionale che ormai è l'unico è l'unico che resiste al mondo come sistema universalistico a finanziamento dalla fiscalità generale è un sistema particolarmente complesso che quindi si muove con determinazione sicuramente ma anche con progressione quindi non può pensare che dall'oggi al domani improvvisamente tutte le problematiche vengano risolte stavamo anche uscendo da un periodo di crisi economica particolarmente acuta quindi in merito di questo Paese e nonostante una crisi economica di quelle dimensioni di aver mantenuto saldo il diritto alla salute lei ha fatto riferimento ai tamponi allora in linea generale vorrei dire questo noi sin dall'inizio pure nella difficoltà nel reperire nel reperire il materiale necessario che chiaramente motivi che sono stati ampiamente dibattuti abbiamo sempre comunque posto anche un occhio di attenzione anche alle regioni del sud che all'inizio erano meno colpite quindi ogni regione ha beneficiato in qualche modo di attrezzature e materiali ora sapete che questa attività viene fatta in totale sinergia e raccordo con il commissario Arcuri per quanto riguarda i tamponi nell'allocride ieri sono stati distribuiti dei tamponi faremo una verifica puntuale per vedere se questa segnalazione è effettivamente confermata sul dato del Piemonte invece come sapete tutti i giorni il dato che comunichiamo è frutto della raccolta delle segnalazioni che arrivano dalle regioni oggi abbiamo fatto una verifica la comunicazione che è arrivata riportava zero decessi nella regione Piemonte è successo in altri casi anche in passato che magari alcune comunicazioni arrivassero in ritardo e quindi verranno inseriti domani eventualmente nella comunicazione che arriverà dal Piemonte Luca Laviola dell'Agenzia ANSA l'OMS anche in questa sede è tornato a insistere sull'importanza di fare i tamponi al personale sanitario è una direttiva che mi sembra continui ad essere ribadita da settimane allora chiedo alla protezione civile che cos'è che ancora ci impedisce di aggredire in maniera sostanziale questo problema visto che continuano arrivare dati molto preoccupanti sui sanitari infettati e chiaramente questo intuisce poi sulla propagazione del coronavirus nelle strutture sanitarie che cos'è che manca mancano tamponi mancano reagenti manca personale per analizzare i test manca organizzazione mi sembra che non ne stiamo venendo a capo di questa faccenda di cui parliamo da settimane non credo che ci sia una relazione diretta tra i sanitari e il tampone i tamponi vengono fatti vengono fatti nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni e non credo che ci sia di fatto una carenza c'è un'esplosione del problema c'è una situazione critica che ha messo sotto stress in due se vi guardate le famose tabelle vi rendete conto che questa questa curva in due settimane è salita in maniera straordinariamente importante quindi vi rendete conto di come il sistema sia stato messo sotto stress il sistema sanitario assistenziale il sistema delle terapie intensive il sistema delle specialistiche tutto quanto il sistema della sanità di base dei medici di famiglia con una violenza e con una irruenza difficilmente pianificabile stiamo reagendo stiamo reagendo nel migliore dei modi stiamo facendo tutto ciò che è necessario e che è il nostro potere per cercare di contenere sicuramente e di aiutare quella disgraziata curva a tornare verso i parametri che ci aspettiamo compatibili con il sistema per poter ovviamente dare un seguito adeguato i numeri sui sanitari contagiati siano un fenomeno recitualmente italiano o sbaglio chiedo a guerra in queste dimensioni no guardi rispetto rispetto ai dati che abbiamo ricevuto dalla Cina che sono stati poi corretti emendati per quanto riguarda l'esposizione personale probabilmente sì per quanto riguarda gli altri paesi europei non credo mi sembra che i dati siano abbastanza abbastanza costanti su questo dal mio punto di vista però mi permetta di dire un sanitario infettato è un sanitario di troppo che viene infettato la curva di accettabilità per l'infezione tra i medici e gli infermieri è zero quindi questo è quello a cui dobbiamo tendere poco importa che accada in Spagna come in Italia come in Francia accade dappertutto purtroppo però questo è un indicatore come si può dire di grandissima disponibilità da parte dei medici degli infermieri a lavorare costantemente in prima linea d'altra parte è anche un indice di scarsa disponibilità all'inizio della fase epidemica dei dispositivi di protezione individuale e se vuole anche di una desuetudine da parte dei medici e degli infermieri ad un sistema di stress epidemico acuto di questo tipo io le cito guardi ma no le cito quello che un indimenticabile surgeon general americano disse circa 35 anni fa che le malattie infettive sarebbero scompasse nel giro di due anni e quindi ci saremmo dovuti concentrare sulle malattie croniche degenerative questo è un po' il paradigma su cui i sistemi sanitari occidentali si sono ripiegati perché è vero è vero che le patologie infettive sono andate a decrescere però è altrettanto vero che il sistema di allarme deve essere costante perché con l'incremento dei movimenti della mobilità internazionali qualsiasi cosa può succedere e lo abbiamo visto questa volta in maniera acutissima bene finita grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti